che non è semplicemente il fare più dolce o meno dolce ma l'avere la sensazione dei piani perché drammaturgia secondo me significa dei piani avere dei piani diversi quello che a suo modo intuitivamente puccini si inventa nella pagina introduttiva dell'ultimo atto di tosca quando non dice piano forte o più forte all'indicazione delle campane ma dice più lontano un po più lontano meno lontano lontanissimo che è chiaro che poi dopo sul piano pratico si può trasformare in un'indicazione di carattere di dinamica o di colore ma è un'idea cioè è di creare diciamo una sorta di piccola mini sinfonia attraverso le profondità magari delle stesse note perché sono poi tre le note usate qui ovviamente c'è già una complessità e questo tipo di rapporto viene creato in maniera molto più naturalità quindi diciamo sono i pesi proprio orchestrali per esempio sempre nella frase iniziale c'è questo bellissimo cambio di corda ma lo cambiano talmente tutti bene sulla penultima nota che sembra addirittura che ci sia un cambio di arcata che ovviamente non può essere in quella frase ma il cambio di corda è talmente giusto evidentemente lo cambiano tutti non solo lo stesso ma lo stesso punto della corda quindi cerca ascoltare ecco il discorso dell'ascoltarsi guardarsi e ascoltarsi questo viene fuori veramente veramente bonitissimo quindi alla fine che cosa succede succede che abbiamo delle esecuzioni che sono più libere più cioè tutti reagiscono come di fronte alla musica invece che reagire diciamo a delle disposizioni ed ecco appunto la concertazione e tutto il resto finisce per essere la preparazione di quel momento che è il momento dell'esecuzione l'esecuzione il momento dell'esecuzione riconquista anche una sua valenza unica esattamente come io credo che per concludere la per concludere e senza saltando proprio tante altre fasi però almeno una dove dobbiamo accennare il fatto che tutto ciò dove dove nasce nasce dalle preparazioni ma nasce anche dalla grande esperienza betoveniana betoven è alla base del repertorio romantico di abbato soprattutto l'ultimo repertorio romantico betoven è un autore sul quale lui si diciamo al quale si dedica in una maniera veramente straordinaria proprio concependolo come il punto di pertenza è l'unico direttore dei nostri tempi che fa le due integrali discografiche con le due orchestre idiomatiche cioè le orchestre che qui potremmo potrei farlo anch'io la sinfonia di betovene con i vini al final mori basta che me ne vada dietro li lascia andare o con i berliner usa queste due orchestre prima i viner per come dire impadronirsi fino in fondo di quella che era la tradizione viennese che diventa un punto di riferimento per lui ma soprattutto per capire alcune cose intanto che ci sono delle indicazioni specifiche esecutive e secondo importantissimo e in questo si rallaccia alle grandi teorie antiche quella che aveva imparato da swarovski il rapporto dei tempi sapete che spesso arriva l'esecuzione l'esecuzione di betovene secondo i metronomi di betovene e lui invece e l'insegnamento di swarovski torna e l'esecuzione di betovene secondo i metromoni pensati da betovene ma non nel senso meccanico ma pensati mentalmente perché dice se un metronomo è uguale dal secondo all'ultimo movimento voleva dire qualche cosa non che uno era più veloce ma significa che c'è un rapporto se un metronomo c'è in questa sinfonia il metronomo del primo del secondo tempo del primo tempo c'è la seconda sinfonia e lo stesso del quarto dell'ottava ci sarà una ragione e via quindi trovare l'idea anche qui l'idea della continuità della logica dei movimenti non dell'inquadramento dei movimenti e in questo io credo che si possa ritrovare il vero suo la vera sua caratteristica è questa idea del sinfonismo come un linguaggio assoluto non come un linguaggio legato semplicemente alle autori a quello un linguaggio assoluto esattamente come il camerismo cioè interpretare concertare le le sinfonie come fossero degli oggetti che stanno quasi al di fuori della storia della sinfonia stessa ma che stanno ben saldamente all'interno di una storia della struttura musicali che poi queste strutture si siano espresse attraverso la musica da camera attraverso il quartetto attraverso la grande orchestra o la piccola orchestra questo era meno importante rispetto al contenuto però a questo contenuto doveva corrispondere uno strumento e lo strumento è esattamente quello che a lui interessa interessa in Beethoven quando un due anni dopo aver licenziato un'esecuzione di una una registrazione discografica decide di farne uscire un altro perché perché dice quel tipo di disciplina era ancora troppo meccanica e l'avevamo ancora un po appiccicata c'era bisogno che fosse più naturale le esecuzioni di Roma secondo lui erano quelle più naturali perché finalmente dicevo quel tipo di rapporto quel tipo di eleganza tra i tempi era un qualcosa che era completamente assimilato e questo è quello che appunto è riuscito poi a restituire nell'ultimo periodo con più facilità proprio perché lavorava con orchestre che già avevano questo tipo di allentamento e quindi in questo modo è riuscito a dare di questo repertorio romantico un tipo di immagine che è precisa dal punto di vista dell'identificazione del mondo dell'autore ma che è nello stesso tempo svincolata da una semplice e banale progressione di storia dell'esecuzione musicale e non è dogmatica mai è sempre libera anche perché sarà un caso saranno i fatti della vita saranno la sensibilità non c'è dubbio che questo tipo di operazione nella quale nel ruolo ma diciamo direttivo nel senso ovviamente non della bacchetta ma proprio di orientamento e viene un po meno uno rinuncia volontariamente al suo loro direttivo per poter avere quello di coordinamento quello di sollecitazione finisce per trasformarsi immediatamente in un tipo di fraseggio in un tipo di morbidezza in un tipo di naturalezza soprattutto le esecuzioni di abbato di questo repertorio dell'ultimo periodo sono esecuzioni naturali in cui non c'è niente che sembra forzato sembra preordinato e visto che si parla di musica credo che sia la qualità migliore la qualità a cui tutti gli interpreti dovrebbero aspirare grazie 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 a tutti.